Hanno rispettivamente 29 e 24 anni i due atleti abruzzesi che hanno riportato a casa le medaglie d'oro e d'argento dalla ultima paraolimpiade della Repubblica Ceca. Il nuovo record del mondo nella staffetta 4x100 e 4x400 se lo ha giudicato il teatino Federico Giannini, classe 1993 che corre con la società dilettantistica Pietro Mennea di Chieti. Nuovo perché un altro record Giannini lo aveva stabilito già agli europei di atletica leggera del 2021 nella specialità del triathlon. Ma lui, soprannominato il ragazzo del record, alle prime posizioni è abituato. Sempre quest'anno nel mese di giugno si è aggiudicato un secondo posto al Golden Gala Pietro Mennea disputato allo Stadio Olimpico di Roma a pochi mesi di distanza dal precedente primo posto ai campionati italiani indoor di triathlon. Federico, qual è l'ultimo successo che hai avuto? La Repubblica Ceca ha avuto 4-2% Hai vinto la staffetta 4% in Repubblica Ceca. Sono i mondiali questi? Sì, sì. I mondiali italiani. Senti un po', ma tu da grande cosa vuoi fare? Che lavoro vorresti fare? Da grande vuoi fare parolista. E poi mi hanno detto che sei pure fidanzato. Sì, certo. Siamo degli anni. Grinta ed entusiasmo sono i segreti di Federico che nel suo ambito è ormai considerato una superstar che spera di gareggiare un domani con i normodotati. O almeno questa è la speranza della madre come tutti i genitori di ragazzi disabili. La madre che ringrazia la polisportiva dilettantistica di Chieti Pietro Mennea per aver dato al figlio una grande opportunità di crescita in un contesto realmente inclusivo. Signora Angelina, come ha scoperto suo figlio Federico di avere questa dote nella corsa? Da quando era piccolina è sempre stato molto dinamico, molto veloce. Se gli vuoi dare una punizione devi dirgli che non deve andare a fare sport. E adesso la motivazione con questi risultati conseguiti è aumentata? Per lui tantissimo. Tanta autostima di se stesso. Ha acquisito tanta sicurezza. Lo vediamo anche nelle gare. Dà l'anima. Altra medaglia paraolimpica nella Repubblica Ceca è quella d'argento conquistata da un altro abruzzese. Nando D'Agostino di Pescara ma allenato dalla Tetis Chieti si è classificato secondo ai mondiali della marcia 800 metri. Anche lui sogna di competere un domani con i normodotati e creare prima o poi una famiglia tutta sua. Secondo posto alla marcia di 1500-1800? Sì, ho avuto una marcia perché è una cosa importante perché è da anni che lo faccio la marcia. Senti, e questa passione com'è nata? È nata perché l'ho voluto fare, ho insegnato i passi e ci sono riuscito a farlo. Hai avuto qualcuno in famiglia che ti ha spinto? Nessuno, è la mia passione è una marcia. L'obiettivo di far gareggiare gli atleti disabili insieme ai normodotati sembra essere comunque sempre più vicino grazie anche all'impegno della FISDIR la Federazione Italiana Sport e Disabilità Intellettiva Relazionale obiettivo futuro realizzare una vera inclusione nello sport.